Chiari segnali della Dinamo nell'approccio della partita con Brindisi. Primo, mettere pressione sugli esterni. Anche se Tahiri commette il fallo alla prima azione, è la prima difesa, è un segnale per dire noi ci siamo, niente cose facili, subito aggressività. Secondo, lavoro dei lunghi sul pick and roll. Guardate che bravo Gombaud a fermare la palla anche lontano e costringere il piccolo a passare e ritornare immediatamente al suo posto. Kruslin tiene l'uno contro uno contro la fisicità di Snead, altra piccola battaglia vinta. Nessuno passivo, Gombaud è prontissimo a rubare la rimessa dal fondo e nell'azione successiva guardate come sprinta per arrivare primo dall'altra parte. Jefferson lo premia, lui tiene controllo del corpo e poi gioca canestro non facile. Bravissimo veramente nel controllo del corpo e non sarà l'unica azione della partita. Nell'ultima azione difensiva del break iniziale di 10-0, Gombaud in ritardo ma la spaziatura di Brindisi non è ottimale. Due giocatori nello stesso angolo marcati da un solo giocatore. Quando Kruslin vede che il lato debole è coperto, capisce che può intercettare il pallone e vola in contropiede. La Dinamo inizia benissimo tutti i quarti, pazienza nell'attaccare, muovere la palla, gestione del ritmo. Thierry sa già che la difesa proverà a braccarlo e anticipa il passaggio di uscita a Gombaud, che prende vantaggio e sfrutta ancora una volta la sua bravura nel controllo del corpo. Se rimani dietro il blocco, poi recuperare diventa difficile. Diop è bravissimo per mettere a Jefferson di trovare lo spazio per tirare da tre punti con Washington che rimane incastrato. Vedete come in questo caso il lungo di Brindisi non riesce a fermare Jefferson, che non è costretto a dare via la palla ma continua la sua penetrazione e ha il tempo di vedere cappelletti sul lato debole o di servire Diop sul roll a canestro per appoggiare. La lucidità della Dinamo nella seconda azione fotocopia anche quando Jefferson viene fermato, Diop ritorna e cambia angolo di blocco per un riscreen, in germ go riblocco, questa volta in lungo, può contenere solo in mezzo all'aria e Diop lo infila con dinamicità e controllo del corpo. Una delle azioni più importanti del match, la Dinamo da 45-42 sotto ribalta al confronto e piazza al break. Difesa eccellente, attenzione sul pick and roll, aiuto di Jefferson sul closeout di Gentile e aria piena per non concedere canestri facili nel pitturato. Da palla rubata nasce contropiede perfetto in superiorità numerica. Krushlin è bravissimo nell'extra pass per Cappelletti, che punisce da tre punti. La partita la chiude prima Jefferson. È pericolosissimo cercare di andare a rubare il pallone a otto metri dal canestro perché se buchi rischi di essere punito. Jefferson sfrutta lo spazio e da grande tiratore firma la prima tripla. Poi Gomboc, con un grande movimento, ancora una volta capacità di controllare piedi e corpo senza fare passi per un lungo e una grande qualità, elude la marcatura dei due giocatori di Brindisi. In questo caso ci sarebbe anche il fallo antisportivo perché il francese viene tirato per la maglietta. La grandissima vittoria della Dinamo è tenere Brindisi a 59 punti in 38 minuti. Da lì nasce il successo della squadra di Markovic. Cappelletti attacca. Non è male la difesa di Bartley, che però salta e rimane passivo, concedendo al play di Sassari il jumper da vicino. Durante la settimana santa, l'isola si avvolge di mistero nella tradizione dei diritti tramandati, di generazione in generazione. Scoprite la magia che preciera la Pasqua. Per il cashback apri il conto online Banco di Sardegna. Entro il 31 maggio richiedi la carta e usala per le tue spese. Per te fino a 50 euro di cashback direttamente sul conto. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere Banco di Sardegna.